Mi siete mancati, da morire. Beh, se il microfono è quello sbagliato, sapete che fino all'ultimo istante poco fa stavo lavorando allo spirito dell'influencer. Era il modo migliore di introdurre il video. Che poi è una diretta, quindi definirla video è sbagliato, ma insomma, sì, sono in full immersion, lo spirito dell'influencer sta bloccando l'anima dell'ealing, sarebbe già uscita non avessi avuto questa voglia, questa necessità, è un video che durerà tantissimo, sapete com'è la qualità che tendo ad avere nello spirito dell'influencer, mi sento una merda, mi sento in colpa, ma non posso accettare di essere superficiale nel portare una cosa che è così rara, no? Quindi grazie di essere qui, mi mancavate, è un tipo di sfogo che mi fa un sacco bene e spero di non deludervi quando effettivamente questo contenuto uscirà. È un po' particolare, è un po' po' tanto particolare, ma se verrà visto tutto arriverà il messaggio, ho un paio di ideuzze strane. Insomma, grazie a tutti, c'è stato un hype train durante l'arrivo della diretta e un raid di froze e parliamo di videogiochi, grazie di cuore ragazzi, meravigliosi. Allora, allora, quello che posso fare adesso è promettervi solidità nelle mie promesse. Quindi si comincia con una run di Tainted Lost. Il meno 12 win streak è un mod notturno di Tainted Lost che potete recuperare, in cui abbiamo fatto delle run pazzesche, senza completion mark, ma pazzesche! Lo trovate, è il punto 5. Ma nel mentre vi idrato immediatamente, facciamoci la singola run di Tainted Lost che può durare 5 minuti, 50 secondi o 50 minuti. e poi andiamo al prossimo Tainted. Adoro Tainted Lost, mi piace giocarlo, nonostante tutto e nonostante la sua meccanica di better item sarebbe potuta essere implementata meglio, ok? Allora, via! Vediamo un po', sì sì, a freddo, si comincia così, si comincia così. Holy card. Holy card. Si comincia con Tainted Lost anche per inserirci un po' nel mood di concentrazione necessaria a fare un bel lavoro. Magari con il vero Tainted. Nice! Perché non comincia con la Small Rock questo personaggio, per esempio? Eh? Perché non comincia con la Small Rock, di base? Ok, mi togli l'alimental, ma mi dai la Small Rock. È un oggetto... oppure, finalmente, il Tainted Lost è così triste perché ha mantenuto la testa del suo cricettino. O del cane Max, a seconda di quanto si conosce la Lord Macmillan. Rune Bag. Ha un suo perché, ma è troppo RNG, dai, non... no. Finché abbiamo il restock, con Better Item, si può provare. Sì, lo so, Algeez è fantastica, ma quante possibilità abbiamo di trovare Algeez? RNG, within RNG, awaits you. Sì, lo so. 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 Non si può. A meno che! Ha fatto male. Ha fatto veramente male, ragazzi. Comunque, come primo boss è veramente difficile, lei, eh. Uff. Come primo boss è veramente difficile, lei. Mamma mia. Zero bomba, abbiamo trovato il segreto, non... beh. Non possiamo farci niente. Cioè, con sei oggetti, con sei monete non ci darà mai l'item, quindi è inutile. È inutile sperare di riuscire a cambiare le sorti della serata. Chi was Kai? Chi was? Chi was? Mr. Botts? Dei Dilan? Luca? Thabic Naffy? Signor Baggins? Grazie. Bentornati, welcome back. Mastro Z, grazie, grazie, poi ho ricollegato. Guia99, Inda Shibs, Eleonora, buonasera, adoro. Klaus Renzo, MacBacco, MacGin, il raid di Proz, grazie, di cuore, come sempre, devo ricambiare quando posso. SOS Master, o meglio, Sauce Master, Ignazio, grazie a tutti. Allora. Ok. Ok. Al Pulaster, welcome back. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Tinted non ce ne sono, non che mi ci servano particolarmente, ma non ce ne sono. Buono. Avete visto, abbiamo la Curse of the Unknown sui cuori. Mamma mia. Ma vi sembra il caso? Ma una runa no? Cazzo. Per ora, l'unica cosa buona che abbiamo trovato è il Trinket. Grazie. Silverback. Algis? Ok. 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 veramente spaventato comunque ogni tanto ho aperto qualche live su twitch e è capitato anche a me con altri streamer di vedere il rewind del video dovete selezionare una risoluzione selezionarne una togliere auto a me risolve è quello è una questione di twitch che ti cambia costantemente qualità e quindi va un po indietro e soprattutto twitch cambia qualità se non avete la trimestra in primo piano non sapevo oh ok per carità è l'anarchist cookbook può essere utile con algis ma non abbiamo algis infinito meglio del libro sicuramente ok guardate il nostro attack speed è vergognoso io sono delusissimo dagli oggetti trovati fino ad ora oh finalmente qualcosina qualcosina allora vabbè ehm the mark ci può essere decisamente utile e direi di usare mister me per ehm il demon baby no? mister me possiamo farlo per ehm provare demon baby sicuramente meglio della creep dietro ragazzi no? vediamo dai ok yes grazie ok ha funzionato abbiamo due bombe non ci interessa la boss rush in questa run possiamo andare a vedere se per caso qui a sinistra c'è la super secret ok ok dai worth andiamo giù un po' intimoriti ma pronti per sperar di ottenere perfection vettere col figlio grazie allora qui abbiamo la sfida normale wow è da fare è da fare è decisamente da fare dobbiamo trovare le chiavi poi farla sì ok per fortuna quella che altrimenti sarebbe una stanza terribile con questo setup con questo layout è molto semplice vabbè sì una chiave d'oro sarebbe il top ma insomma si cerca di rimanere con i piedi per terra no? buono ok 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 peccato che non abbiamo il doppio slot però cioè è ovviamente meglio alghies no? no Mr. V apre anche le chest però sapete vogliamo provare vogliamo vabbè sì facciamolo facciamolo è meglio la carta è meglio la carta di alghies dite dite per combo con oggetti che mi permettono di utilizzarla perché è ovvio che voglio tenermi la carta non scendere mai il piano ma in generale per la situazione reale 20 secondi di invincibilità sono imbattibile no? comunque cazzo ci serve gulp come facciamo ragazzi? non è meglio cioè bisogna capire i numeri i poison tooth fanno male quanto i denti? io non lo so sono comunque denti ma avvelenati eh infatti allora abbiamo bisogno di bombe abbiamo bisogno di fare un po' di cose qua se troviamo le giuste risorse abbiamo fatto svoltata proprio tutto ma che cazzo vabbè bookworm è più vicino qui c'è una tinted ma non abbiamo mai bombe esatto voglio provare con lo specchio a trovare gulp esatto quella è l'unica cosa che posso provare a fare iera poi tra l'altro è molto figa ma bisogna vedere dove oh beh in caso oh attenzione eh ok ah nella challenge room è vero è vero nella challenge room da fare avete ragione molto smart si molto smart e allora niente mister me a questo punto se non ho le chiavi è inutile però abbiamo un mister me che può farci trovare una chiave cioè ragazzi iera iera algis per il beggar? mmmm che paura cazzo non lo so mi mi spaventa molto algis per il beggar però è anche molto saggio la parte vostra dirlo è il modo migliore di fare il piano devo stare attento e sperare che non succeda nulla di brutto me la tengo per il boss e vediamo ci basterebbe una chiave per risolvere il problema no in realtà è un consiglio molto intelligente ok vabbè andiamo in negozio ovviamente dove no ah c'è una chiave ah mamma mia che monnezza ragazzi porca miseria che super monnezza eh sì potrei comprare dovrei comprare la pillola vero? you are so right speed down beh che dire ok allora che ecco dai ok ecco in ok ok ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esatto, ho già sculato che mi è rimasta adesso. Esatto. E niente. Il trinket non scompare comunque, ragazzi. Alla fine se mi... E' che non ho bombe, oh eh, vediamo. Ma come? Mannaggia, Krampus è stato sgradevolissimo. Vabbè, Holikard. E sapete, vorrei a questo punto chiedere a voi in chat, perché questa è un'informazione che non ho. Con gli angeli è evidente. Si impara. Ma con Krampus, quale Brimstone fa? Esiste come distinzione? I versi? Fa versi diversi. Il suono? L'espressione facciale. Cavolo, devo studiarmele allora. Perché io vi ricordo che Krampus è stato modificato con una patch. Ah, ok. Allora, perché non ho potuto schivare a causa di questo. Non ero pronto a capire cosa poter fare, cosa no. Ok, 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 ok. Non si sa, ma è possibile, insomma, è possibile stare in un safe spot per entrambi. Anche questo è molto vero. Pronti? Ok, 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 ok. No, dai! Ma manco una chiave! Vabbè, che RNG brutto! Ok. Sì, allora, Krampus corre verso Isaac per fare quelli rotanti, ma lo può fare sia cardinale che obliquo, no? Adesso ho la bomba, lo so, però. Ma sei stronzo, sei. Eh sì, era meglio usare iera per altro, però ragazzi... Allora, bomba uno. Ah no, giusto, il... Vabbè, no, è vero, è il letto normale che... Ma come una! E niente! E ciccia, ragazzi, ci teniamo perfection. Questo piano è stato immeritatamente sfortunato, ma Isaac è anche RNG. Isaac è anche RNG. Non possiamo sempre vincere il gioco del random number generator. Ci andiamo a prendere alghies e andiamo via. Ciccia, ragazzi. Better items. E non era una trapdoor, this oak. È il prossimo piano. Solo che la domanda è questo. Questo effect doubled. Però. Però. Nice. Ah, ma quindi li fa sempre comunque cardinali e solo in alcuni casi quando carica li fa ruotare. Ah, questo non lo sapevo del nuovo Krampus. Ok. Eh sì, forse quadruplica il danno, però intanto noi ce la prendiamo comunque in saccoccia. Ah no, anche negli inter cardinali. Ok, 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 ok. Eh, tra l'altro non ho voluto utilizzare subito. Secondo voi se uso Mr. Me me la prende senza... Segnare solo quando ruotano, ok. Eh, cavolo. Mr. Me lo prende, no? Me lo porta liberamente. Vediamo un po'? Esatto. Ma no! Ma sei strassissimo! Io sono ma... Ah, il diavolo, dai! È proprio il boss peggiore. Nooo! Nooo! Ma che cacchio! Ma cos'è questa run di Tainted Lost con l'RNG? Give me a break! Ora c'è Griden nello shop, ma sicuro? Per forza! E che altro può esserci? Tanto ormai il gulpo non mi serve più. Ecco, perché mi avete preso? Mi piacerebbe vedermi sbagliare, eh, mostri sciattoli. Eh, vabbè. Vorrei delle bombe, comunque. Ragazzi, non ho bombe per il tappeto. Che stanze! Mr. Mea apri anche i tappeti? Eh, scusate per i timpani, ragazzi. Avete visto che stanze sono? Cioè... Timpani rotti. Allora... Allora... Uno... E due. Sono stanco. Sono stanco. Ancora non abbiamo ottenuto una sola cosa positiva. Oh, questa è una cosa positiva. Mi diventiamo mamma, mi sa. La fortuna comunque ci serve a niente, no? Giusto? Non si basa sulla fortuna. Ah, è vero, One Makes You Small l'ho trovato. È vero, era positiva. Era positiva, avete ragione. Avete ragione. Dese. Voi. Fiii. 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 better items diciamo che non mi aspettavo che sarebbe stato così giocare a Tainted Lost lo ammetto non è proprio il feeling che mi aspettavo da Tainted Lost vi odio non a voi voi siete innocenti e santi guarda mi ha dato tre monete oh raga basta ma che ma questa è la run più memabile della storia dei Tainted Lost non posso credere a quello che sta succedendo è tutto è tutto assurdo ma sbaglio non si vede nulla quanto ingiusto dai è stato ingiusto la troll bomb mega nell'angolo in bas cioè fastidio eh lo so che è RNG e niente eh no ma volevo 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 sparare alla bomba però è che mi stavano lanciando anche le altre cose mi sono ovviamente confuso in quel momento è giusto è giusto andare a cercare di cacciarle dunk depth sicuramente c'è molto dunk qui però come profondità non andremo molto avanti basta non farlo mai più mi sono ingoiato le tonselle ma ti sembra ma perché sputi ma perché non ce ne sono ne c'è che cazzo ti dai una holy card per favore la torcia scordatelo scordatelo la torcia bookworm bookworm io non io non run meme run meme run meme totale totale voglio solo essere ucciso a questo punto l'ho fatto per il 21% del planetario dell'area in GTA non Cosa era? Cos'è che era spawnato prima? C'era scritto è spawnato qualcosa, non ho capito cosa Sì, me la prenderò Little Maggie, ma dopo Errore umano Mi ero dimenticato che sparavano a croce morendo Volevo prendere comunque il The Fool e poi prendere Little Maggie Questa non è stata la stanza stronza Mi ero dimenticato che morivano con le lacrime a croce Questi cosi di nere Errore umano ragazzi, errore umano Altrimenti non avrei sparato e avrei aspettato il momento giusto Cioè genuino errore antropomorfo Vabbè facciamo Volete provare un'altra round di Tainted Lost o andiamo subito a fare il nuovo Tainted? Magari troviamo un better item nella Treasure Room, no? Nuovo? Ok, va bene Allora A chi tocca? No bombs Only poop Hold Cioè ti tieni la cacca quindi? Che cos'è? Oddio Ok, va bene E' uno scudo Con L1 uso le cacche Con R1 Le tengo Si posso lanciare le cacche a nemici Posso lanciare le cacche a nemici No bombs Ho solo le cacche Che diavolo è? Esatto L'holde è per tenersi le cacche che ti piacciono E' questo? Oh Questa è una cacca di pietra Quindi Queste cacchie Oh no E come faccio a cambiare l'ordine? Non posso cambiare l'ordine? No Quindi questa è una cacca di pietra Mi serve come scudo No con R2 non fa niente Ok Mi fa... Mi fa cagare questo personaggio Ma non è rapa... Non è rapa tu Ma è un laser caccoso E' un laser diarreico Allora abbiamo quindi una cacca di veleno E... Vediamo Ma sono forti eh Ma fanno malino però eh I danni ragazzi Mancano Ok Lancia la cacca di fuoco su quella velenosa Puoi fare alchimia Alchimia fecale Certe cacche sinergizzano fra loro Uh Deep Ma queste sono caccone giganti Un merdomante Esatto Come mai questo laser a knockback Ne puoi tenere solo quelle che vedi però Quindi raccoglierle non serve Ah Ok Ma allora perché c'è il numero 9 che aumenta? Ah no non aumenta più E' vero Ok Ok Scusate devo provarle Devo provarle Devo provarle Se non le provo Ci sono anche suoni diversi Fanno le puzzette Divo E posso distruggere le cose così? No Però quella di pietra si no? No ma dai neanche quella di pietra Ah questa è una cacca bomba Ah ok si è proprio quella Ok 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 Ed è erengigolo che raccogli Ah e le cacche grandi E le cacche grandi Sono degli Conglomerati Sono degli agglomerati di Ah ah Era una bomba questa eh Non mi è fregato Oh che paura Eppa Non ero pronto Allora mettiamo una bomba in hold Esatto Sì ma è un disastro È un disastro Totale Fasso Sì ma è un disastro Sono... Esatto, vediamo il lato positivo. Con lui posso essere colpito più di una volta. Ma no! Quindi la cacca è così, è uno spreco e basta. Ma no, l'ho anche tenuta! Ok, comincio a capire. Se cammino sulla cacca ho dei bonus! Oh, porca miseria. Quindi questa è la diarrea. Ok, ok. Ok, 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 ok. Wow. Ok. Questa è la scorreggia. Questo è il veleno. Ah, ce n'è una nuova! Ok, quella creerà mosche. E dai! Pensavo che non sarebbe morto! Pensavo che non sarebbe morto così in fretta. Ho aumentato i miei danni in maniera inaspettatamente alta. Quindi abbiamo... Il veleno a cui potrò dare fuoco, però. Oh, è fortissimo! Ma no, è inutile per me! Pensavo che mi facesse una moschina. Ok, è un oggetto. Quelli in basso a destra possono essere sostituiti. Hanno uno slot in più. Ok, è quello che volevo. Ok. Super buono. Ok, facciamolo. Com'è affatto? Dammi una chiave, però, dai. Mi ha dato una cacca. Quindi posso tenermi la scorreggia e prendere un'altra mano. No, ancora Tainted Cannon non è stato esplorato. E considerando che è un personaggio più lento di questo... Io sono a bocca aperta, cosa che non si dovrebbe fare con questo PG. È rischioso. Però... Sto cercando di capire come... La mia mente ora è completamente assorbita dal voler essere efficace. Capire qual è la strategia per diventarlo. Devo tenere le cacche a terra perché altrimenti non ne vale la pena. Non le posso... Vediamo un po' i danni che facciamo così. Magari posso scorreggiare per dare fuoco al... Ah no, perché no, quello è già fuoco. Spamma più cacche. Ah, ma se spammo le cacche... Ok, così li confondi anche. Ma è forte comunque se spammi le cacche. No, ma l'ho spaccato. Certo, non sto ottenendo un bonus che sia uno, ma... Zero chiavi, eh? Va bene, zero chiavi. Quindi spammare le cacche... Ok. Effettivamente è molto efficace. Nooo. Però non poter usare bombe è drammatico. Solo che in queste stanze usarle sarebbe un peccato. E' anche vero che è grazie al laser che siamo riusciti a... E' difficilissimo. Adesso mi sono salvato una scorreggia, ma non mi sento molto in vena, no? Non posso lasciarle a terra senza lanciarle? No! Porca miseria. Ho provato a premere due volte il tasto e non me l'ha fatto. E io volevo salvare... Cioè, io volevo posare la bomba. Ok, la scorreggia mi rende... Uh... Anche temporaneamente impossibilitato ad attaccare. Mamma mia. Ora abbiamo la diarrea abbaffante. Ma cosa sto dicendo? Ma che personaggio è? Posso usare la cacca per creare un ponte? Posso lanci... Ah! Per farla esplodere! Devo farla esplodere dopo. Non posso lanciare la cacca e basta. Non si può. No? Ho la cacca sacra! Che cos'è la cacca sacra? E niente, ogni tanto puzza. Guarda, puzzina. No, ma perché il... Il laser non mi fa shielded tears? Mannaggia. Pensavo di essere diventato invulnerabile, invece. È la sacca... È la cacca santa, esatto. Ma XL, no. Allora, vediamo un po'. Devo usare la cacca diarreica lì e il diarrea buff. Sì, ma i dialoghi di partite su Tainted Blue Baby è... Mi ha sovrascritto la cacca, ragazzi. Mi ha sovrascritto la cacca! Ma basta, HP up! Ma perché? Solo HP up! Uh... Ok. Ok. I'll take it. Dai, mi ero messo bene. Ok. 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 Ehm... Eh, better item è veramente utile! Ah... Esatto! Ok. Va bene. Ehm, andiamo al negozio? Eh, devo provare le sinergie, lo so! Ma, sai. Ooooooh Ooooooh i fuochi blu esplodono a contatto con le cacche velenose ok se io faccio questo non pensavo che avrebbe avuto questo tipo di possibilità quanti segreti nasconde la cacca è vero è vero più che altro confermiamo a questo punto che i tainted sono molto più ispirati di quanto avrei immaginato io mi aspettavo delle leggeri modifiche non completo diverso design save for later eh ma non posso usarla la tainted cioè per usare la tainted no non è vero posso usarla perché tanto troviamo un sacco di cacche che non devo essere schizzinoso vero e la e la e questa qui me la tengo però non so che fa cosa fa la holy poop devi usarla sulla diarrea ti giga buffa quando la rompo? ok ma devo romperla per avere il boss quindi esiste la cacca sacra è quella con l'aura è quella con l'aura è mai vista la cacca si dovrà sbloccare facendo qualche complice un marchio con i tainted ragazzi a me non stardo questa è proprio sporca ah no non romperla devo ah fa un'aura tipo la stella di betelem ah quindi quella più diarrea ovviamente fa l'incredibile perfetto perfetto si ma il laser no ma il laser normalmente è tic nooo ah ok ho trovato un'altra game ok devo usare molto di più la cacca il potere della cacca e credere nella cacca devo utilizzare la combo diarrea sacra ok eh mi ha velocizzato quella proprio la stanza precisa aspettate eh sto sperimentando ho lasciato una chiave indietro e anche la treasure room ah no qua 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 scusate sono concentratissimo perché sto cercando di di essere più efficace ma non riesco a usare la cacca abbastanza spesso non mi viene mamma mia ok no e basta eh no a me mi servono le bombe ok ok qui abbiamo la combo siamo a dunk depths 1 ok uh come vedete tocchiere puzzette possono fare miracoli non posso fare un altro non posso fare un altro un altro save vero? devo spammare le cacche ok e ok avete ragione anche voi ma che cos'è che esplode? che cos'è esploso? ah il gas si accende porca vacca il gas si accende a questo si può aaaah quindi i fuochi non vengono soffocati eh si esatto hai kamikaze integrato figo il gas si accende il gas si accende il gas si accende il gas si accende comunque abbiamo due diarrete eh ma come satana non posso prendere satana maledetto e niente eh ma se lo... non posso ragazzi non posso a questo punto apro lo scrigno not really worth it questa cos'è una sequenza di bombe ah explosive diarrhea dammi la bomba ok non conosco la nostra vita sono coinvolto concentrato confuso e incuriosito se combini il creep e metti una cacca di fuoco sopra una cacca velenosa una cacca sacra e ti metti sopra la striscia ottieni i bonus e altri vantaggi diversi si combinano quindi però mi confermate che non posso non posso posare la cacca io non posso posare la cacca giusto ok non posso ok 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 posso solo tirarla dai mi sono incastrato mi sono incastrato nella porta aperta un'altra di high priestess ok quale chiave mi sono ah la chiave scusate sono 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 tanto lo so che avremo mega satana accelerato nel mente l'ho già rivelato che mi fido di poter arrivare da mega satana potevo enterarci la salana comunque eh eh esatto esatto bene ma smettete di farmi male hpf no sono accelerati Fammi ancora male Non erano accelerate? Ah è vero la musica non era accelerata E loro sono accelerate No Sono solo, a loro sono la scheggia assurda Di caratteria Ok la diarrea apro Ehm no Cervelli Cervelli Spesa con giupiter esatto Ma mia che palle sarebbe stato senza Tech 2 Che palle Che turbopalle sarebbe stata Avete cominciato a spammare qualcosa Che succede? Oh no Oh no No Non voglio. Ma non potete spaurarmi da sotto. No, la monetina! Uh, il negozino! Difficile. Ho scelto di non farlo. Abbiamo qualcosa da recuperare. Abbiamo già troppo a cui pensare con gli attivi. Sì, per quello dico. Non uso il crooked perché tanto non c'era niente da recuperare di particolare. Ah, non ho visto il trinket però! Non ho visto il trinket. Non ho visto il trinket. Allora ragazzi no, non posso rischiare di perdere la bomba. La tinted sta bene dove sta. Devo entrare da mamma e sperare che appaia. Ah, non c'era trinket! No, devo sperare che mi appaia l'angelo. Ok? Perché altrimenti è brutto, cioè... Dovemmo scendere giù e fare il nostro dovere. L'ho vista la tinted ma non ho sicurezza di trovare altre bombe. Eh... Non abbiamo le bombe. Altrimenti avrei raccolto... In teoria abbiamo molte chance di trovare le bombe, eh? Facciamo una cosa... No... Ai priestess sulla tinted ci possiamo provare, eh? Proviamoci! Ok... Mi ha dato cacca. No! È accelerata! Meglio. Una challenge finalmente. Era una scelola. Sì. Era una scelola. No! No, non c'è! Non vuoi essere, non c'è... C'era un giorno. Si... Sonano un giorno. No. Non vuoi essere... Nei ! Non vuoi essere, non vuoi essere. Non vuoi essere. Anno! Sì, magari mi prendevo dei fool per tornare indietro E cercare di sfruttare un po' le bombe Ma vabbè, andiamo giù Ok, 42% Dobbiamo recuperare i nostri soul art persi a causa Del caccume RNG No, ho sbagliato oggetto Ho sbagliato Vabbè, può succedere perché Questo personaggio, questi personaggi che hanno gli item Con i tasti strani Ok Focus riscattato Devo anche bere Allora, allora ragazzi, sono con voi Sono con voi, sono tutto vostro Allora È vero, devo usare di più il potenziale Che sono terrorizzato dal rischiare di non prendere le chiavi Farò questo piano in focus Vado Grazie ragazzi Andiamo Ok Forza Forza Che figo Che figo Che figo Sosona Certo che sti danni però Focus o non focus Danno fastidio Stiamo attenti Perché qua ogni danno è un cuore fisso Quindi Non si può più cazzeggiare Che cos'è? Una carta nuova Eh ma no Ma poi si appiattiscono con Mi sa Le spine Eh sì Però quella è una pillola solo positiva Che disastro Burks Buono Burks Eh dai Ma che Ah dai Non era stata una cattiva idea Ragazzi Era No? Non era stata una cattiva idea Rback No Non morì Sp �'è Un Ok Qui abbiamo Explosive Diarrhea E la Dice Room Non ci sono pedestal qui Però potrebbero esserci Aia Con quale concentrazione Bisogna lavorare qua Allora Basta lo sapevo che non si spegneva Bono Pensavo mi avrebbe lasciato i cuori blu Ah ma perché non può averne rossi Quindi va bene Lo accetto It happened Questo è il blue baby Perché io sono abituatissimo Al fatto che ti rimacchi Che togli i cuori rossi Ma i cuori rossi se non esistono Ok Touché Touché My old friend Va bene D'accordo Noi li dovremmo andare a cercare in altri modi Vero Karma Eh Andiamo a cercare questi cuori blu Somehow Vero amico Eh Porca puttana Potresti morire Asop Grazie C'è un motivo per il quale C'è un motivo per il quale non mi hai dato gli angeli Bastardo Ragazzi sono Tornato Dopo aver ricordato Il bonus meraviglioso del blue baby Ehm Allora Noi qua potremmo fare diverse cose Ore rollarlo Ore rollarlo È il momento di andare al dado ragazzi Avete per caso visto Tinted che è la mia paura di focus È una No 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 Duplicarlo di nuovo no ragazzi No no Con quale Vedete qua Tinted qua Sì è vero Ma perché No 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 ragazzi Quello è troppo Cioè Se non avessi perso i cuori Sì Dai Buono Molto buono Ok Non è vero che è molto buono Perché Non possiamo avere I cuori Vabbè Ok Ok Sarebbe stato bello raddoppiarli due volte Ma capitemi Capitemi Non è vero che No Avevo fatto bene Ragazzi avevo un terribile bisogno di soul heart Io qua sto sparando ma lui non mi appare sotto No la La holy poop lì La cacchina La cacchina sacra la vorrei utilizzare per roba tipo gigantesca Mega satana e compa Sono di nuovo Sono di nuovo the lost Esatto Sono di nuovo the lost Sempre un piacere Sempre un piacere Ragazzi Perlomeno siamo forti Relativamente E qua non possiamo trovare nulla Tranne Stinted Allora se Ma perché tutte le pillole sono protette Ma perché Oh Che caro Che caro Adesso mi fa entrare però Lo prendo Lo prendo eh Io lo prendo Abbiamo anche la tinted Aspettate Ma come Ok prima entriamo qua E usiamo la cacchina di fuoco Ah ha Ah ha Basta di tutti i nemici Proprio te Ok Ok Go Mike Go Go No 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 Ma Ma basta soldi No 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 Sì. Definitivamente il chariot. Ok. Stiamo giocando insieme e mi piace un sacco. Quanto mi manca ogni volta. Ma allora sei veramente, veramente, veramente bastardo. Che palle. Megasatana, cioè volevo fare Megasatana onestamente. Oh speriamo che appaia, speriamo che appaia Delirium. Cioè l'unica cosa che può rendermi felice adesso è Delirium. Il resto è monnezza. Deve almeno apparire Delirium. Cioè abbiamo... Cioè la percentuale di non trovare... Il pato degli angeli fino ad ora, secondo me, è inferiore al 5%. Con tutte le volte che abbiamo avuto la percentuale altissima non si spiega. Non si spiega, non si spiega. Stronzo. Vabbè è vero che... No, non devo farmi passare la voglia. Non devo concentrarmi di meno. Mi stavo concentrando di meno perché... Perché ci sono rimasto male. No, ho sbagliato di nuovo sasto. Vabbè. Oh, un'altra cacca sacra. Oh, un'altra cacca. Ah è la mega chest Ok Che figata Che figata Che figo Quattro 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 carica Vediamo quanto dura Eh se ci fosse la sacrifice io devo sacrificherei tutto per avere l'angelo a me stanno Io lo farei Io lo farei Se trovo la Ah ma è difficilissima sta cosa Geo lo farei Però cazzo eh Ah ma che uscirei rinascendo Vediamo Vediamo un po' com'è Meglio il crooked Beh a sto punto posso lanciare anche io le bombe e usare le cacche Tanto ormai Sapevo che non funzionava Poverini mi fanno una tenerezza i bomberman Non fanno altro che buttarsi le loro stesse bombe addosso e morire di una morte orrenda Ah con birthright il cap arriva a 29 20 cacche in più Carino Carino Allora Qua c'è sicuramente la super secret Qua c'è sicuramente la super secret mamma mia stanza ah ma tanto qua gli oggetti il crooked penny beccato alla fine raddoppiare le cose nella cesta lascia un po' il tempo che trova eh vabbè ma alla fine ormai ci serve dead ski cioè il resto è triviale completamente triviale si posso raddoppiarmi le ceste o cancellarle così ha più chance di dead ski siete bestia ragazzi avete ragione siete bestia no lo ho rotto subito oh 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 come affatto ma cato si muove è bastato ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho intuito la morte del nemico a mente. Ah... Oh... Dai... Guardatemi... Le stanze grandi caricano due linee però... Il... Che figata... Che figata... Che figata... Bellissimo... Io vi ricordo che... Per me... Provare gli oggetti nuovi è molto importante. Cioè... La mod non deve interagire con gli oggetti nuovi. Altrimenti... Per me è barale. E... 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 Ma... Ma... Che è sta figata? Ma... Ma... È tutto fortissimo... È tutto fortissimo... Basta però... Perché... Perché non posso avere... Perché non posso avere... Perché non posso avere il mio mega satana? Dai! Anche per sbloccarlo me la son giocata così bene! È tutto fortissimo... È tutto fortissimo... Ah... Porca miseria! Questo è un oggetto nuovo Devo raccoglierlo per forza È una regola Questo è un oggetto nuovo per me Devo raccoglierlo Sì però Vabbè abbiamo perso dai Abbiamo perso Abbiamo perso Comunque stavo sparando E mi è apparso davanti Però non mi fido di farlo di nuovo Guardali 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 Eh il metrano sì Magari lo provo È un po' difficile ma lo provo Guardali guardali Stavo guardando Altro Perdono No Sotto no Guardali 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 Scusi? Scusi? Noooo! Ci ho creduto! Non è vero, non ci credevo neanche un po' Ragazzi dovete pregare per delirium Ma no, si è rotta subito! Avevo 31 di danno! Delirium, dai! Dai delirium, per favore appari! Void! Void! Noooo! Oh! Beh... Oh, noi siamo stati bravi! Però, allora... Tainted Blue Baby In realtà avevamo Mega Satana praticamente a portata scontata Nel senso che non avremmo avuto la minima difficoltà né a sconfiggere delirium né Mega Satana secondo me Però... Ogni volta che stiamo provando un taint del risultato è veramente bellino Ora il punto è... Quanto è difficile portarlo a quel risultato Blue Baby Perché noi avevamo tech che era veramente utile Veramente utile Vedremo! Io vi dico Domani purtroppo Non avremo la live mattiniera E dovrò comunque svegliarmi all'alba Quindi è semplicemente una enorme, terribile fregatura Tuttavia Tuttavia Vi devo ringraziare Siete stati fantastici Rico Scurio Benvenuto Come ti vissi poco fa Cons Bruttoluri The Infinity Blogger Smarius Cionni Fabian Gd Culeno Eleonora Megabazzo Io sono tuo padre Trasteer Domani Jack Bitwool Kiro Maru Sols Notamoker Robzz Jack Ray Depretore Edgeis Now Puff Eriks Jay Itchamuerte Tatsuchan Grazie delle parole E No! Non ho provato Tatsuchan ancora? Carino Void Talker Ryan Metalcore figlio It's Silverback Siete stati stupendi Io devo assolutamente lavorare in maniera seria Allo spirito dell'influencer Altrimenti non riuscirà mai Quindi è impossibile fare extra Ultimamente Vi lascio immaginare il ritmo Ma Noi Ci rivedremo presto Non si escludono degli extra durante la settimana Avete ancora offerto quello di Tainted Kane Ma Non voglio Non voglio Fare Tainted Kane prima che esca lo spirito dell'influenza Quindi sarà un po' il nostro premio Voi ve lo siete meritato Me lo merito anch'io Io farei live sempre ragazzi Ma ho dei doveri e delle responsabilità Oltre che degli obiettivi Di darvi contenuto E quest'anno è veramente un disastro per me Un disastro vero Siete stati stupendi Grazie per supportarmi in questi momenti E La tradizione Tainted Lost, Tainted Hidden è molto importante Vedremo come va e cosa porta A presto ragazzi Grazie di cuore Alla prossima Grazie